La tradizione non si è mai interrotta da lontano 1558 e anche quest'anno nel piccolo centro collinare si è tramandata e immutata. Un vero cammino di fede in onore del patrono di Reitano, Sant'Erasmo, dal centro fino alla frazione di Villa Margi, attraversando un tratto della strada statale 117. La leggenda vuole che il protettore salvò il paese da un'invasione di cavallette che flagellavano i campi e il piccolo centro. Fu solo dopo aver portato in processione la reliquia del santo verso il mare che le cavallette alnegarono, così che il centro potesse finalmente prosperare. Una tradizione quella del martedì di Pasqua a cui i cittadini sono molto legati. C'erano tanti fedeli oggi al pellegrinaggio a piedi, non sono mancate le autorità. Lungo il cammino, come ogni anno, la sosta presso il casale Campo ad accogliere il corteo con la reliquia e i fedeli propri padroni di casa. Poi i pellegrini hanno raggiunto Villa Margi.